Ciao, sono Pia Giorgio Roveda. Ho studiato Geometra e ho imparato l'utilizzo del CAD nel 99. Poi negli anni mi sono laureato in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali. Ho lavorato per le pubbliche amministrazioni, imparando l'utilizzo di ArcGIS e successivamente nel mondo della rete della logistica con Matt Pinkford. Ad intervalli e nei vari periodi e anche adesso sono un freelancer specializzato in GIS e in generale in Geospatial. Per chi ha approcciato da poco al mondo del Geospatial, vi anticipo che non è un percorso che si impara in poco tempo. Ho trovato questo modello in cui viene rappresentato tutta la gerarchia di carriera che viene descritta nelle varie parti della della piramide come sviluppo della professione del tecnico o comunque dello scienziato geospaziale, da cui i software GIS sono la componente principale. Infatti utilizzare GIS non significa solo utilizzare un software. Bisogna avere un approccio un po' diverso, da un po' diverso comunque di nicchia rispetto ad altre professioni. Bisogna avere le competenze per redare rapporti tecnici, bisogna utilizzare il computer non solo a livello di un sistema operativo però bisogna sapere utilizzare i fogli di calcolo, le banche dati, bisogna gestire i file, i vari tipi di file, gli strumenti office sicuramente. Bisogna anche, appunto questo è il motivo per cui faccio questo video, bisogna anche approcciare al linguaggio di programmazione e poi non da meno anche la conoscenza dei software di grafica. quello che viene detto nella seconda parte della della piramide che è molto molto dettagliato ci vogliono un paio d'ore prima di leggere tutto il documento delle varie competenze che vengono sviluppate attorno ai GIS. Ho trovato questa diciamo questa sintesi. Questa sintesi deriva da un'altro da un'altra teoria che di solito è associata a qualcosa che non sono i GIS. Invece i GIS sono esattamente questa cosa qua. Un sistema cybernetico, un sistema in cui c'è un input, un sistema in cui c'è si regola il contenitore. Questa regolazione avviene tramite dei feedback, quindi dall'ambiente esterno. Quindi il sistema riceve degli input, li elabora, un controllore è sopra e comunque supervisiona, monitora e migliora questo contenitore e i feedback avvengono dal mondo esterno quando si produce un output. Detto questo non vi voglio sicuramente spaventare sulla complessità dei GIS, però non posso nasconderla. Ho strutturato questo corso e i seguenti corsi in base a tre livelli, a base, avanzato e esperto. Nei corsi che vi propongo terrò sempre in considerazione questi tre aspetti e associerò anche un punteggio con delle stelle in base al livello di questi tre preparazioni, quindi base, avanzato e esperto con cinque livelli di competenze. Sicuramente bisogna partire dalle prime stelle e poi vedere come proseguire. Grazie a tutti.